a buona è già su web a quest'ora di mattina benvenuti al condominio 24 la notizia del giorno è che teresa del bar al piano terra vuole mettersi a dieta beh certo che per una che di mestieri fa la pasticcera non deve essere facile infatti la sola idea può stato la foto di uno sfogliatella ripiena dobbiamo aiutarla teresa scrive in bacheca grazie vinicio perci primi due chili merito anche dell'agrifonia e chi è una tua amica dietologa ma no è una pianta tropicale aiuta a regolare la fame nervosa il tono dell'umore l'ho scoperto sul web con la vodafone station 2 siamo sempre connessi effetti collaterali può rendere euforici lo vedo teresa per festeggiare si è mangiata un cannolo con la crema